Questo programma è offerto da Buongiorno amici di Masseria Pietrasole, siamo qui oggi per mostrarvi una nuova ricetta che noi facciamo in Masseria, nella banchettistica, la ricetta di una volta, un ragù di guancetta di vitello, molto particolare perché ha un sapore antico, è un piatto semplice però ben apprezzato, è molto facile da riprodurre nelle case, un semplice ragù fatto con sedano, carota e cipolla, un soffritto con la guancetta di vitello sfumato con del vino rosso, poi in aggiunta del pomodoro o salsa di pomodoro e quindi il decotto che ha 4-5 ore di cottura, poi dipende anche dalle quantità e poi il tutto viene finito con un pacchero e con del pecorino decorato e lo vedremo in corso. Mettiamo in una pentola un po' di olio extravergine, del trito di sedano, carota e cipolla, una foglia di alloro e del rosmarino, poi le aggiungiamo la guancetta di vitello, facciamo soffriggere per bene. Quando la carne sarà ben ronossolata, le aggiungiamo del vino rosso. Facciamo evaporare il tutto, aggiungiamo della salsa al pomodoro. Questo è un decotto, quindi dovrà cuocere per almeno 4-5 ore, dipende anche dalle quantità che si fanno, però fatti in casa per poche persone anche 3 ore di cottura sono più che sufficienti, però avremo un ragù come quello di una volta, perché il gusto della guancetta di vitello è molto particolare, molto buono. Adesso caliamo il nostro pacchero in acqua salata, la facciamo cucinare per 15 minuti. Scoliamo il nostro pacchero e lo immergiamo nel nostro ragù, ovviamente in aggiunta di un po' di sale e pepe all'occorrenza, lo mantechiamo. Il pacchero deve essere sempre al dente, molto anche più facile da digerire, anche più buono, perché comunque è una pasta di grano duro, quindi va mangiata al dente. Adesso possiamo impiattare il nostro pacchero con ragù. ci mettiamo delle scagliette di pecorino DOP decorato, per finire anche un suo tocchettino. un filo d'olio e il piatto è pronto. questo programma è stato offerto da un po' di sottotitoli